Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. The Great Wall, la grande muraglia, è una pellicola d'azione che vede i protagonisti Matt Damon, Pedro Pascal e William Defoe. Il film, ambientato nella Cina medievale durante la dinastia Song, ci propone una storia alternativa, sviluppata attorno alla grande muraglia cinese, la quale sarebbe stata costruita per contenere una letale razza di mostri, i Taotie. In questo video intendo analizzare le caratteristiche, le origini e il background mitologico dei pericolosissimi Taotie. Partiamo dalle origini di questi mostri per quanto concerne il film stesso. I Taotie non sono originari della Cina né tantomeno della nostra terra. Essi infatti giunsero in Cina in un remoto passato, circa 20 secoli prima dei fatti mostrati in The Great Wall. Quando un massiccio asteroide luminescente si schiantò nel nord del paese asiatico. Secondo il mito furono gli dèi ad inviare la piaga dei Taotie per punire un sovrano troppo crudele ed arrogante. Ma in realtà si trattò di un evento astronomico che condusse sulla Terra una razza aliena, feroce ed organizzata comunamente alveare. Diciamo che l'idea dell'arrivo tramite un asteroide non brilla certo per originalità, ma ci possiamo serenamente passare sopra. Una volta giunti sul nostro pianeta, gli alieni cominciarono a riprodursi a intervalli di circa 60 anni, tempo necessario a garantire un ciclo di espansione della specie. Quando l'armata Taotie è pronta, una vera e propria marea di mostri si scaglia contro la grande muraglia, difesa dall'ordine senza nome, ultima vera barriera tra i mostri e le grandi città dell'impero cinese. La specie Taotie è divisa in tre classi, i soldati, le guardie della regina e la regina, la quale ovviamente governa la colonia. Partiamo dai soldati semplici, l'unità più numerosa e che più viene mostrata nel film. I soldati Taotie sono creature quadrupedi di colore verde, posseggono una vistosa bocca dotata di denti aguzzi, artigli capaci di lacerare la carne e utili anche per arrampicarsi, e due occhi posizionati in un luogo un po' insolito. I bulbi infatti non si trovano nell'area del muso, bensì sulle spalle. La colonia Taotie conta milioni e milioni di soldati, i quali muovendosi velocemente attaccano più ondate le difese umane, nel tentativo di oltrepassare la muraglia. I soldati di per sé non paiono molto intelligenti, ma grazie a un organo posto sul cranio possono ricevere direttamente ordini dalla regina, tramite una sorta di suono vibrato. Se abilmente coordinati e governati, i soldati Taotie possono diventare una forza irresistibile, capace di tendere anche imboscate e compiere azioni diversive. Per quanto riguarda la resistenza dei soldati, la loro pelle è abbastanza spessa, tanto che le frecce restano incastrate, senza però danneggiare seriamente l'alieno. Anche il fuoco non sembra recargli grossi problemi. Appaiono invece vulnerabili alle armi da taglio, spade, asce e lance, ma l'unico modo sicuro ed efficace per metterli K.O. è quello di colpirli direttamente negli occhi. Probabilmente da lì si arriva dritti dritti a colpire anche il cervello della creatura. I soldati Taotie, oltre ad avere il compito di combattere in prima linea, svolgono anche un'altra funzione cruciale, procurare il cibo alla regina. Essi infatti le portano praticamente qualsiasi tipo di carne commestibile affinché la regina possa creare nuovi membri della colonia. Le possenti fauci dei soldati sono perfette per trascinare le prede necessarie al sostentamento della femmina. La seconda unità della specie Taotie è la cosiddetta guardia della regina o guardia reale. Questi esemplari sono molto meno numerosi rispetto ai già citati soldati. Nel film vengono mostrati circa 20-30 esemplari di guardie contro le centinaia di migliaia di truppe. A livello fisico le guardie sono molto possenti. Sono grandi più o meno come un elefante, posseggono forti arti posteriori, arti superiori vagamente simili a mani e in generale il loro aspetto ricorda quello di un grande primate. La vera peculiarità delle guardie è la presenza sul capo di una sorta di vela retrattile, che possono aprire e chiudere a piacimento. Questa vela serve a proteggere la regina, che viene circondata dalle sue guardie, le quali formano una sorta di testuggine romana in versione Taotie, usando appunto le vele per deviare frecce, bombe e palle di catapulta. La vela appare davvero molto resistente, visto che non viene penetrata da nessun'arma utilizzata dall'esercito senza nome. Nel film ci vengono mostrati sempre vicini alla regina, ciò testimonia come nella gerarchia sociale di Taotie le guardie abbiano solo lo scopo di proteggerla. E a proposito della regina, è venuto il suo turno di essere analizzata. La regina Taotie è il fulcro della colonia, colei che coordina tutte le azioni della sua specie tramite i già menzionati suoni vibrati, emessi dalla vela posta sulla sua testa. La regina, come dimensioni, è più grande dei soldati, ma ben più piccola delle sue guardie. L'aspetto della regina ricorda quello di una bizzarra lucertola o di uno strano dinosauro quadrupede. Anche lei possiede delle vistose fauci dotate di denti, che però non usa per cacciare, visto che appunto il cibo le viene portato dai soldati. Quando la regina viene nutrita a sufficienza, allora dà inizio al ciclo riproduttivo, generando nuove unità Taotie secondo intervalli regolari. Più cibo verrà portato alla regina, più essa potrà generare nuovi esemplari. Un'intera città di prede umane avrebbe reso i Taotie sostanzialmente inarrestabili. La regina è di gran lunga la creatura più intelligente di questa razza aliena, del resto è lei che coordina tutte le orde dei mostri. La sua intelligenza è anche sottolineata dal fatto che, con il passare dei secoli, ha imparato a combattere in maniera più efficace, comprendendo le debolezze degli umani in base all'esperienza nelle varie battaglie. La regina, infatti, capendo le grandi difficoltà nel superare la grande muraglia, ha ben pensato di scavare un tunnel per aggirarla, in modo da oltrepassare le difese umane, mentre le sue truppe di soldati tenevano impegnati gli eserciti cinesi. L'unica vera debolezza di questa scaltra creatura è il suo processo di nutrizione. In quel momento, infatti, la regina rimane ferma e può diventare un bersaglio piuttosto facile, anche se comunque viene sempre protetta dalle sue possenti guardie. Tutte le unità Tautier posseggono una grande debolezza comune, il magnetismo. Nel film viene infatti mostrato che una roccia dotata di proprietà magnetiche provoca una sorta di coma nei soldati Tautier, in quanto interferisce con il loro sistema di controllo e comunicazione da parte della regina. Senza il diretto legame con la regina, i soldati Tautier si paralizzano e in definitiva muoiono, come viene mostrato alla fine del film, quando la femmina viene uccisa. Emerge con chiarezza quanto siano condivise le menti di questa specie aliena. Anche qui nulla di particolarmente originale, ma ci può stare. E questo è tutto per quanto riguarda le caratteristiche delle varie unità. Come vi ho accennato all'inizio del video, la figura del Tautier, nonché il nome, affonda le sue radici nell'antica mitologia cinese. Secondo le leggende, i Tautier sono una delle quattro creature malvagie del mondo, le quali sono contrapposte alle quattro creature sacre del mondo. Il simbolo dei Tautier, che in The Great Wall è presente sulla fronte degli alieni, è stato largamente usato nell'arte cinese, come motivo decorativo soprattutto su piatti e calderoni realizzati in bronzo. Secondo i miti, ai Tautier piace molto bere e mangiare fino all'eccesso. Direi che l'aspetto della voracità è stato mantenuto anche nel film. Il loro aspetto nella mitologia ricorda quello di cani, dotati però di una faccia simil-umana. E questo è sostanzialmente tutto per la storia e le caratteristiche dei Tautier. The Great Wall è un buon film da guardare per svagarsi, così un po' a mente spenta. Offre una storia piuttosto originale, con buone sequenze d'azione, mostri spietati e piuttosto originali, e un cast comunque di tutto rispetto. Nel mio piccolo vi consiglio la visione, non dura neanche tanto e secondo me non rimarrete delusi. Offre comunque uno spunto diverso rispetto ai soliti film ambientati ai giorni nostri. Spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande, richieste, curiosità, suggerimenti per altri video, vi aspetto nella sezione commenti. Se il video appunto vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se invece volete sostenere le mie creazioni, potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure Paypal e TP, link in descrizione. Se invece volete seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus sia su Facebook che su Instagram. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!